oh ragazzi come si fa io dico avere un quoziente intellettivo almeno di 80 non dico 110 ma almeno di 80 a continuare a votare questo qua se non è un pagliaccio ragazzi io non ho parole ha iniziato dicendo padriana in italy poi è andata a prendere i voti al sud degli appresi poi ha detto basta euro e ora continua con l'euro poi diceva putin il miglior statista del mondo e ora gli dà le sanzioni poi diceva stop fornero e adesso ci ritroviamo con una legge che è molto peggio della fornero non ha tolto nessuna fornero vi meritate tutto il male del mondo i tagliotti